Come funziona e che cos'è il PEP? Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. In queste settimane è argomento quasi quotidiano il PEP. Spieghiamo cos'è e come funziona. A marzo del 2020, nella fase iniziale della pandemia e per fronteggiare l'emergenza, è stato creato questo piano di aiuti che tradotto significa Programma di Acquisto per l'emergenza legata alla pandemia. Pandemic Emergency Purchase Program. Non sbagliamoci però con il PEP, Pan European Personal Pension Product, e cioè Prodotto Pensionistico Individuale Europeo, che è legato ai fondi pensione. Questa cosa ovviamente tanto per semplificarci un po' la vita con i termini. Il PEP della BCE è uno strumento che sarà in vigore sino a marzo 2022 ed è esclusivamente utilizzato in questa fase di emergenza e che verrà abbandonato una volta che la situazione si sarà stabilizzata. Quindi una sorta di paracadute per poter fermare il collasso economico causato dalla pandemia e sostenere le economie duramente colpite. Con questo piano di aiuti, arrivato ad oggi a 1850 miliardi di euro, la BCE può acquistare titoli pubblici o privati delle varie nazioni, in base alla percentuale di partecipazione delle relative banche centrali nazionali nel capitale della BCE, anche se questo aspetto è stato derogato a favore dei paesi che presentano maggiori difficoltà. Possono essere acquistati titoli di debito pubblico, ma tra le opzioni c'è anche quella di utilizzarlo per l'acquisto di titoli di debito societario con rating non di alta solvibilità. In poche parole, questo strumento è necessario e fondamentale soprattutto per quei paesi meno stabili da un punto di vista finanziario, tra questi purtroppo anche l'Italia. Ma con il perdurare della pandemia, è uno strumento fondamentale anche per tutti gli altri paesi aderenti all'Unione Europea. Senza questa possibilità, ci sarebbe stato sicuramente un innalzamento dello spread e del debito pubblico dei singoli paesi, mettendo fortemente a rischio la stabilità totale. La BCE ha utilizzato anche in passato questa forma di intervento. Questa ha il vincolo che possono essere acquistati titoli con una scadenza minima a 70 giorni. Quindi titoli che scadono relativamente anche a breve termine. Per ricostruire un po' di storia, questo metodo di intervento è iniziato con il quantità di divising quando Draghi era capo della Banca Centrale Europea, per poter tenere sotto controllo i tassi di interesse e il rapporto tra domanda e offerta nel 2008, durante la crisi economica che ha messo a dura prova il sistema finanziario mondiale e appunto anche quello europeo. Il PEP è l'evoluzione ed è molto più flessibile e, come detto, ha anche meno vincoli. Per avere un'idea dei volumi, la Germania è stato il paese che ha avuto maggiori acquisti di titoli, al secondo posto l'Italia e terza la Spagna. Da quelle che sono le ultime dichiarazioni di Christine Lagarde, il presidente della Banca Centrale Europea, gli acquisti nei prossimi mesi saranno in aumento in considerazione di un possibile anche aumento dell'inflazione di conseguenza di una forte ripresa economica prevista per quest'anno, partendo da valori sensibilmente più bassi rispetto al crollo che c'è stato nel 2020. Questi strumenti fanno capire quello che è lo sforzo per combattere la crisi economica e quanto si sono dimostrati fondamentali. È stato anche un cambiamento decisamente forte su quelle che sono sempre state le strategie delle banche centrali. Concludo con quelle che sono le stime di crescita per quest'anno a livello di PIL. Nell'eurozona è prevista una crescita del 4% nel 2021, del 4,1% nel 2022 e del 2,2% nel 2023. Mentre per quanto riguarda l'inflazione, di conseguenza la crescita economica, è previsto un rialzo a più 1,5% nel 2021, più 1,2% nel 2022 e più 1,4% nel 2023. Dati che potranno subire variazioni in base a quello che sarà anche lo sviluppo e l'eventuale perdurare della pandemia. La citazione di oggi è la seguente. L'Africa ha l'AIDS, l'America del Sud ha la droga, l'Islam ha il terrorismo, il Terzo Mondo ha il debito. Gli unici successi occidentali sono i virus elettronici e il crack della borsa. Jean Baudrillard. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.